Con questo video dimostriamo la costruzione di un organistrum che parte dall'idea del monocordo. Infatti abbiamo una corda sola, in questo momento, la ruota e le magadas, cioè i vari ponticelli. Al posto di un ponte mobile, un ponticello mobile da spostare lungo la scala, abbiamo dei ponticelli già predisposti, di forma con una sezione semicircolare. Quindi in questa versione abbiamo la necessaria somiglianza, la necessaria derivazione del organistrum dal monocordo. Poi aggiungeremo le corde esterne, le due corde esterne, e avremo l'organistrum.